Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni passo Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro, ospite della puntata Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospito un giovane, giovanissimo cantatore Ma intanto giovane, poi quel tempo è passato quel giovane L'abbiamo conosciuto nel 2019, oggi lo ritroviamo dopo tanti anni Leo Meconi, a questo punto in questi cinque anni eri un fanciullo Come si è cambiato e come si è cresciuto nel tempo? Eh, sono cambiato tanto e sono cresciuto tanto Non solo fisicamente ma musicalmente soprattutto in tante cose Però in realtà sono rimasto lo stesso di prima Nel senso che suono sempre la chitarra Mi piace sempre cantare, fare le mie cose, scrivere le mie canzoni Quindi ovviamente sono evoluto anche nella scrittura e tutto Ma sono rimasto lo stesso che ero cinque anni fa A questo punto parliamo intanto dell'ultimo brano Che ci presenti Come nasce questo brano, da cosa tra istirazione E come sei riuscito poi a ottenere il risultato che tutti ascoltiamo? Ma è un brano, intanto si chiama Super Geloso È un brano che ho scritto un annetto fa In estate, è un brano molto estivo Con un mood veramente molto da spiaggia Infatti abbiamo registrato il video che è uscito ieri tra l'altro E anche il video rappresenta un po' questo mood estivo della canzone Parla, in realtà un po' dal titolo si può già dedurre Super Gelosa Parla un po' di questo sentimento che c'è nelle relazioni A volte un po' ingigantito Infatti Super Gelosa Secondo me la gelosia è un sentimento giusto Che è giusto avere in una relazione Quando è, diciamo, non troppo Quando non prevarica troppo l'altra persona Quindi non bisogna essere, secondo me, super gelosi Ma gelosi il giusto, gelosini Nella realizzazione dei tuoi testi, nelle canzioni E nasce prima un riff, un beat Nascono prima le parole Oppure casualmente nascono insieme Dipende In realtà non ho una formula magica per scrivere le canzoni O per far nascere una hit o qualcosa In realtà nascono veramente molto casualmente A volte magari mi trovo in studio con dei miei amici Magari si mettono al piano O io mi metto alla chitarra o al piano E quindi nasce un po' tutto insieme Nel senso che da due accordi Poi nasce sopra subito una melodia E quindi poi si va a costruire il pezzo insieme Tra melodia e parole O a volte magari ho un testo E magari scrivo un testo con dei pensieri E già il testo mi dà dalle parole un po' di ritmo E quindi da lì costruisco poi la base E quindi magari nasce prima il testo Però la maggior parte delle volte Probabilmente nascono insieme musica e testo E invece precisi essere un po' più longevo nei testi Oppure come il classico inglese Il testo un po' più sintetico Un po' più ermetico Ma di solito preferisco Preferisco scrivere molto ad immagini Quindi descrivere proprio delle situazioni ben precise E cercare di non dilungarmi troppo nella descrizione Nel senso dare più immagini e riferimenti possibili Nel testo Magari tutti in una strofa per dire Magari non metterci una strofa intera Per descrivere una piccolissima situazione Ma caricare un sacco di immagini dentro Per dare più immaginazione anche a chi ascolta Invece l'approccio dopo i tanti anni L'approccio con il palco Un salire sul palco Comunque c'è una quarta platea Che in fondo anche se sei concentrato Ma l'energia che trasmette il pubblico Tutto lo senti Che tu poi li trasmetti comunque Qual è quella tua sensazione in quel caso? Io adoro star sul palco Adoro suonare davanti alle persone Adesso ho la mia band Quindi suono sempre in band E' veramente super divertente Perché appunto come hai detto tu La gente dà carica a noi E noi diamo carica alla gente Quindi è un po' una Un mix di adrenalina E di varie sensazioni Che arrivano tutte insieme sul palco Ed è proprio come se Fossi un'altra persona sul palco Perché riesco a Non pensare a nient'altro A stare lì A godermi il momento A divertirmi io E far divertire la gente Perché poi ovviamente è un po' Anche il lavoro di chi sta sul palco Far divertire la gente Quindi è veramente una sensazione unica Che è veramente inspiegabile E impagabile devo dire E invece poi scendendo dal palco Tu incontri queste persone Che ti guardano Ti li vedi rilassati, felici Che comunque non ti fanno oltre Che farti complimenti Ti chiedono il selfie Ma il Li vedi con quella faccia Proprio rilassata O contenta O anche triste Perché poi le canzoni Ognuno le esprime come si pare Come vuole Certo Qual è la tua reazione Vedendo quelle facce Che comunque Dimostrano che in fondo Ciò che hai trasmesso È arrivato A cogliere quei punti Beh sicuramente Quello è È il mio obiettivo Quindi quando Magari fuori dal palco Vedo della gente Che si complimenta con me E che vedo che hanno recepito Il mio messaggio Le mie sensazioni Le mie emozioni Anche da sotto al palco E io sono molto felice Perché poi è Quello che punto a fare Ogni sera Quando suono E si può essere strano Perché a volte Quando scendo dal palco Magari esatto Le persone mi Mi chiedono Magari anche solo un selfie Così si vengono a complimentare E io invece Sono totalmente diverso Sul palco Sono super sicuro di me Vado Cioè sembro veramente Un'altra persona Invece sotto al palco Mi vedono Come Non lo so A volte ho la sensazione Come se le persone Non mi vedessero come Una persona normale Invece sono Molto timido Nella realtà Sotto al palco Quindi Mi rapporto poi Con le persone In maniera Molto molto tranquilla E secondo me Viene apprezzato Anche Dalla gente E che ti pensa Passa Quando tendo A un Leo Meconi Da sotto al palco Come fan E poi Tutti Ormai Penso che te l'abbiano Ricordato Quel Bruce Quel Bruce Quel Bruce Quei cantante Di poca fama Mondiale Che nessuno Conosce Ad essere Tu sopra il palco Quale differenza C'è in quel Leo Che conosciamo È molto diverso Anche se Adoro Tutte e due Adoro fare Tutte e due Nel senso che Vado a vedere Concerti Veramente in continuazione Ed è la cosa Che amo Di più fare Ascoltare musica Di qualsiasi genere Da Appunto da Springsteen Sono stato adesso A Barcellona A vederlo Fino a Anche artisti Rap Trap Quindi Ascolto veramente Di tutto E vado a vedere Qualsiasi tipo Di concerto Mentre quando sono Sul palco È Una sensazione Diversa Perché È come se Mi immaginassi Di essere sotto Al palco E vedere sul palco Me stesso No? Quindi Voglio sempre cercare Di essere All'altezza Di stare sul palco Perché quando vedo Un artista Come Springsteen Stare sul palco È Tanta roba Quindi Quando Quando ci sono io Veramente È un privilegio Per me stare Davanti a della gente Che mi ascolta E Quindi provo sempre A dare Il 100% Il 200% Di me Per Anche per strappare Un sorriso A quelle persone Anche solo Una persona A sera Provare a Farla andare a casa Con qualcosa In più Ecco Ma a questo punto Dando progetti Oltre a Comodichemente Questo singolo Ci sono altri progetti In lavorazione O in studio Attuali? Assolutamente Sì Ho Tanti progetti In corso In realtà Adesso A fine agosto Mi trasferirò A Boston Perché Inizio il college Lì College musicale A Berkeley E Quindi Inizierò a studiare Musica In America E poi ho registrato Un album Che ho finito E che Che uscirà A breve Ancora Non posso Spoilerare Troppo Però Uscirà Molto A breve È un album Che ho lavorato In Irlanda Con dei produttori Incredibili Un po' Un po' In inglese Un po' In italiano Mantengo Ancora Questa Questa mia Passione Per la scrittura In inglese E Secondo me È veramente Un bel disco Da ascoltare Dall'inizio Alla fine È proprio Un racconto Un viaggio Che Merita di essere Ascoltato Secondo me Quindi Spero Spero poi Di avere l'occasione Di ripresentarlo Anche con te Siamo qui Aspettare Che asca Questo disco Ci sono artisti In cui Un pochettino Oltre al boss Chiaramente Un pochettino C'è l'influenza Di base Che comunque Ti porti Involontariamente Anche Nel modo Di lavorare O comunque Di impostare Il tipo di scrittura Quello che Cioè Nella realizzazione Comunque Della tua musica Certo Assolutamente Come ho detto Ascolto Veramente Tanta musica Anche per Prendere Ispirazione Un po' Da più generi Possibili E più Artisti Possibili Sicuramente Suono la chitarra Adesso che suono Anche in band Con la mia band Mi piace molto Ascoltare E prendere Anche ispirazione Da John Mayer Che è un grandissimo Chitarrista Mentre Poi ci sono tanti Nella scrittura Che mi porto Dietro Da Appunto Da Springsteen Dylan Ed Sheeran Tra i più moderni Ma in realtà Ascolto tantissimo Anche Uno dei miei Rapper preferiti Dei miei artisti preferiti Ultimamente È The Kid Laroy Che è australiano E giovanissimo E scrive Secondo me Delle canzoni Veramente Incredibili E lui Nella scrittura Mi piace molto Perché Trova sempre Delle formule Interessanti Per dirle cose Quindi Diciamo che Spazio molto Nelle Nelle mie Influenze E invece A questo punto Poi si è citato Che senta davvero Che tanti concerti Qual è quello Oltre L'ultimo che hai visto Il Bruce A Barcelona Metto Quello Quello che ti Sei partito Con la sensazione Di comunque Vederlo Ma poi Alla fine Ti ha lasciato Più Più Sensazioni Positive Che di Quello Che pensavi Cioè Assolutamente L'anno scorso Mi è capitato Di vedere Ero ad Umbria Jazz Mi è capitato Di vedere Ben Harper E Non ho mai Ascoltato Tante cose sue Conoscevo qualcosa Ovviamente Ma non sono mai Stato Super fan Di Ben Harper Quindi ho detto Lo vado a vedere Molto Molto Tranquillamente E devo dire Che mi ha stupito Davvero È stato Un bellissimo Concerto E Mi sono innamorato Di alcune sue Canzoni Che non conoscevo Alcune le conoscevo Le ho riscoperte E Quindi da lì Ho anche Riniziato un po' Ad ascoltarlo Quindi Ben Harper Sicuramente mi ha stupito Davvero tanto Live Perché È davvero incredibile Infatti se Vi capita L'occasione Andate a Sentirlo live Perché è davvero Tanta roba E invece C'è qualche live Di Leo Che è un po' Ti è rimasto nel cuore Perché Quel giorno Era così detto Le stelle erano perfette Il sole era perfetto La luna era perfetta E Leo Era Non perfetto Ma Meraviglioso Ma Ce n'è qualcuno Di live Devo dire Soprattutto di Quest'inverno Ho suonato tanto Con la mia band In giro Secondo me C'è stato un live A novembre Che abbiamo fatto Una sera Che in realtà Era Tra l'altro Normalissimo In un posto Vicino Bologna Io sto a Bologna In un paesino Qua vicino In una specie Di auditorium Teatro Con tanta gente Che non ci conosceva Quindi Ci dovevamo impegnare Il doppio Per farci apprezzare E Non so perché Però quella sera Proprio è stato Un live Particolarmente Bello Per Proprio Come mia sensazione Anche il pubblico Secondo me Ha recepito bene Le canzoni E tutto Quindi Sì Ci sono quei live Particolari Che A fine serata Dico Cavolo Stasera è stato Diverso È stato più particolare Più intenso Magari Per Anche per scelte Della scaletta A volte Per Scelta dei pezzi Se ci fosse la possibilità Di volare nel tempo O nello spazio Indiferentemente Se potessi salire Su un palco Indiferentemente Appunto Nel tempo E nello spazio Con che artistia Vorresti salire O salire Su un palco Eh Non lo so Non lo so Sicuramente Uno dei miei Più grandi Sogni Eh Sarebbe Ovviamente Vedere Elvis Che purtroppo Per Sono nato Troppo tardi Per poterlo vedere Però Mi piacerebbe Tanto Mi sarebbe molto piaciuto Aver visto Un suo concerto E quindi anche Magari Aver suonato Con lui Però Sì È molto scontata Come risposta Però Effettivamente Secondo me Deve essere stato Qualcosa di incredibile Lui Live Negli anni Quindi Sicuramente Elvis Presley Lo metterei Al primo posto Parlando del singolo Da chi nasce l'idea Di questa copertina Semplice Un Soltando Rosso Questo rosso Con questa scritta Poi L'uomo In realtà È una Una serie di cose Perché Mi fa piacere Che me l'hai chiesto Perché In realtà È una cosa Che Non Non in tanti Notano In realtà Nasce L'idea Inizialmente Dalla copertina Del singolo Precedente Guastafeste Che Praticamente Molto simile Solo con un altro colore E ovviamente Un altro titolo E questa copertina In realtà Era rosa E quindi Ricordava Un po' Tipo Una Carta Di Gomme Da masticare No E mi piaceva Molto questa cosa Quindi Ho deciso Poi Per questo singolo Per Super gelosa Di Praticamente Utilizzare Il colore Che Secondo me Rappresenta Meglio La gelosia Adesso Che poi Siamo anche Nei giorni In cui è uscito Inside Out 2 Il film Siamo molto Nei colori Delle emozioni Secondo me Il rosso Rappresenta Molto bene La gelosia Ovviamente E quindi Ho detto Secondo me Ci sta a fare Una copertina Semplice Riprendendo Quella Del singolo Precedente Visto che Anche Tematicamente Secondo me Stanno bene Come brani Insieme Abbiamo deciso Di fare Una copertina Analoga A quella Precedente Ma Con un colore Diverso Che rispecchiasse Meglio La gelosia E a questo Mundo Caro Leo E ci mancano Due cose Fondamentali Oltre Dacci appuntamento Quando si era Il disco Che poi A questo Non possiamo Sponerare Sarà solo In formato Digitale O anche Come non Ritro In formato Fisico In realtà È una scelta Che ancora Non abbiamo Preso Ma A me Piacerebbe Che uscisse Anche In formato Fisico Ma Soprattutto Perché A me Piacciano Molto I cd Proprio Come Oggetti E soprattutto Nei live Alla fine Anche quando Vado Magari A qualche Live Di gente Che non Conosco Compro Il cd Anche solo Da tenere Dentro Casa Secondo me È proprio Un bell Oggetto Da avere Quindi Probabilmente Uscirà Anche In formato Fisico E a questo Punto Mangano Due cose Fondamentali Gli indirizzi E la battuta Viene spontanea Non di casa Ma chiaramente I social E I saluti Finali Allora Io Sono su tutti I social Su tutte Le piattaforme Come Leo Meconi Tutto piccolo Tutto attaccato Su Instagram Facebook Youtube Spotify Veramente Ovunque E E basta Grazie mille Per avermi invitato Mi ha fatto Veramente piacere E speriamo Di vederci presto Ove di campione Piero di energie Il sport di Ceno Game Ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio Siamo pronti a brillare E Studio 7 TV Ci guida ad ogni pass Ad ogni sfida Ad affrontare Con orgoglio Con orgoglio E con onore Siamo pronti a dare Il nostro meglio Con Pietro Come guida Il nostro spirito Non se rende mai Sport di Ceno Game Studio 7 TV L'intervista di Pietro Di un cuore Di un campione Ogni atleta Ha una storia Ogni momento Un'emozione Con coraggio Studio 7 TV E sport Ceno Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della Pumana Perché non ti finiri in me Chiami e richiami ad ogni ora Tu sei pericolosa Stai lontana da me